Come posso collegare i pulsanti Serious Act con Profinet ad un pannello ECMI? La nuova unità di estensione per i dispositivi SIMATIC e ECMI Pro offre spazio sufficiente per i tuoi dispositivi di funzionamento e segnalazione Serious Act e per i moduli Profinet. Puoi adattare l'unità alla tua applicazione. Collega in modo efficiente il modulo di interfaccia Profinet e i singoli moduli terminali con cavi a nastro. Ora collega il pannello ECMI e l'alimentazione elettrica. I segnali vengono trasferiti al PLC tramite Profinet o ProfiSafe. La successiva configurazione avviene tramite il TIA Portal o con l'ausilio di un file GSD. Serious Act con Profinet. Semplice, veloce, comunicativo.